Allora, Vino e Kilo è appunto una vendita di vestiti vintage e di seconda mano e l'idea che è alla base è quella di offrire fondamentalmente un'alternativa a quello che è tutta l'industria del fast fashion, quindi un'alternativa che sia accessibile a tutti e che possa in qualche modo favorire tutta quella che è l'economia circolare legata all'industria del fashion. Invece di comprare un abito nuovo, un abito che per essere prodotto comunque crea molto inquinamento, un abito che è in serie e che è uguale a altri mille, compro un abito che invece è unico, che è stato usato e rimesso in circolazione, che ha una sua storia e che invece che andare buttato gli do un'altra vita. L'acquisto degli abiti segue un po' le logiche di quando vado al mercato e compro frutta e verdura, ovvero ha un prezzo al chilo che va a calare giorno dopo giorno, perché ovviamente non trovo gli stessi capi che ci sono il primo giorno e quindi l'ultimo giorno ha un prezzo più economico. E appunto come quando vado ad acquistare frutta e verdura, invece posso anche non prendere un chilo di mele, ma prenderne solo una e pago in proporzione. Allora i capi vengono da un lato, abbiamo un fornitore olandese, e dall'altro sono anche capi che sono stati donati dai nostri clienti, che ovviamente attraversano un processo di igienizzazione e di categorizzazione, e questi clienti hanno donato i loro capi in cambio di un voucher monetario che possono spendere all'interno dei nostri eventi. La scelta di venire a Creative Lab è perché questo spazio è uno spazio dedicato ai giovani, è una fucina comunque di creatività, anche un posto di aggregazione giovanile dove si crea una cultura per le nuove generazioni. Il fatto di venire qui è legato al fatto che siamo convinti che le nuove generazioni hanno bisogno in qualche modo di conoscere che c'è un'alternativa al fast fashion.